Buongiorno a tutti, siamo arrivati al 12 agosto 1942 con il diario di Ugo Cavallero. La situazione in Egitto è sempre più complessa nelle sue dinamiche in cui non si riesce ad avanzare, non si può retrocedere, il dispositivo più complesso possibile nella comprensione dei vari fronti come le necessità della Russia condizionano quelle dei Balcani, come quelle dei Balcani condizionano quelle dell'Africa settentrionale, come quelle dell'Africa settentrionale condizionano gli eventuali fronti che si possono aprire con la Francia di Vichy e tutto in un discorso di più ampio sospetto e recriminazione nei confronti dell'alleato germanico. È una situazione molto complicata, che giorno dopo giorno stiamo avendo contezza, sempre più contezza e traspare anche dai giudizi di Cavallero. Cavallero lo conosciamo nel bene o nel male, filo tedesco, ottimista, e dobbiamo però essere onesti e dargli ragione nell'essere anche in alcuni momenti particolarmente sensibile e obiettivo dinnanzi a situazioni critiche, in cui appunto gli stessi tedeschi, Rommel in primo, sappiamo che il rapporto con Rommel non è mai stato idilliaco e anche con una certa complicità con Kessering, che gli sarà fatale da lì a 13 mesi, ma questo ovviamente si inserisce in maniera trasversale all'interno delle dinamiche, non solo del Comando Supremo, dello stesso Cavallero, ma anche di tutte le altre organizzazioni, delle altre istituzioni militari che vanno a collaborare o vanno a contrapporsi con lo stesso Stato Maggiore Generale. Detto questo, oggi leggiamo solo il 12 agosto, perché c'è un elemento molto corposo, molto sostanzioso, potremmo dire, nel diario del Maresciallo d'Italia, che così inizia. Rommel mi telegrafa, virgolette, per la difesa da eventuali sbarchi nemici, il Comando dell'Armata Corazzata tiene pronti i reparti motorizzati tedeschi, di cui aliquote vengono oggi trasferite a Solum, Marsa, Matruk. È intenzione del Comando Armata Corazzata di assumere la difesa costiera fino a Tobruk, compreso, con forze sufficienti, tre grossi raggruppamenti motorizzati, rinforzati con artiglieria. Finisce il virgolettato. Il Maresciallo Kessling mi telegrafa che non può dare protezione alle nostre forze navali perché ha tutto impegnato come scorta ai suoi bombardieri. Suggerisce l'impiego di carri minati. Telefono a Riccardi, argomenti, forza H, affondamento della porta aerea nemica Eagle, convoco il colonnello Gallo e Montezemolo, argomenti, modalità di azione aerea sulle navi portaerei, impiego della nostra caccia, presiedo una riunione cui parteciano Fuget, Santoro, Magli, Gallo e Montezemolo. Fuget, capo e stato maggiore dell'aeronautica, nonché sottosegretario della medesima, informa che a bordo delle navi nemiche è stata rilevata la presenza di grosse barche. Noi abbiamo 40 caccia moderni e bombardieri. Questi ultimi portano bombe semoventi da lanciare 100 metri avanti alla formazione. Assieme ad essi sono i caccia con le bombe. Segue il grosso di siluranti e caccia. 14 macchi 102 dovranno spazzare il cielo. La nave portaerei sarà attaccata da caccia con bombe alari e da bombardieri con bombe da mille. Questa volta siamo sicuri di avere aerei superiori per qualità e forze come quantità a quelli della portaerei e quindi la portaerei sarà attaccata per ultima poiché l'attacco è costoso. Affermo che dobbiamo affondare i piroscafi. Li dichiaro obiettivo numero uno. Fouget fa affidamento su bombardieri con due bombe da mille chilogrammi che andranno a sfasciarsi sulle navi. Successive ondate seguiranno contro i supestiti e i danneggiati. Confermo che anche per queste successive azioni l'obiettivo sarà sempre il convoglio. Fouget fa presente che l'attacco ai piroscafi è difficile perché sono al centro. Egli conta su tre azioni. La prima forte, la seconda ridotta, la terza in forze dalla Sicilia nel tardo pomeriggio. Ha già dato disposizioni anche per domani. Santoro fa presente che i tedeschi hanno impostato l'azione per conto loro. Vi è un pericolo? Giorni fa sono venuti sulla Sardegna senza avvertire e hanno perso due apparecchi per il nostro tiro contraereo. Riccardi comunica che è stato individuato un nuovo gruppo che ha certamente la portaerei per bombardare i nostri campi di aviazione. La Sardegna è già in allarme. Affermo che si deve agire sui convogli e non abboccare a nuove prede. Fouget ritiene che sia meglio subire il bombardamento dei campi che distogliere le forze. Le nostre divisioni navali sono ormai già in moto per riunirsi al centro del tirreno onde poter agire su Pantelleria o in altra direzione. Massa di sei incrociatori e una decina di caccia torpediniere. Fouget propone di concentrare le nostre forze navali contro il gruppo che viene da Levante. Sansonetti non concorda. Potrebbe trattarsi invece di un gruppo mosso apposta per far divergere le nostre forze. Invio al Comando Armata Corazzata le seguenti direttive. Al Comando Armata Corazzata idro-tedesca e per conoscenza a Delease. Virgolette. Punto primo. Come comunicato da Superasi per disposizione del Duce codesto comando passerà dal 16 corrente alle dirette dipendenze operative del Comando Supremo. È il tema che abbiamo affrontato qualche giorno fa proprio a proposito del discorso del passaggio della competenza delle truppe operanti in Egitto in territorio egiziano che vanno direttamente quindi Romer sostanzialmente vanno direttamente sotto al Comando Supremo e viene eliminata l'interposizione di Bastico con il Comando dell'Africa Settentrale Italiana. Punto secondo. Il Duce conferma le direttive generali in atto ed aggiunge che lo schieramento e tutte le predisposizioni comprese quelle logistiche debbono corrispondere a una sollecita ultimazione dei preparativi in corso per la ripresa offensiva. Il momento per questa ripresa sarà stabilito dal Duce. Punto terzo. Limite tra la zona di giurisdizione dell'armata e quella di Delease. La linea assegnata all'armata corazzata Marsa Matruc Siva. Organizzazione portuale difesa contraerea e costiera di Marsa Matruc di competenza di Delease come già in atto. Le truppe dislocate a Siva alle dipendenze operative dell'armata corazzata. Quarto. Il Duce desidera che pervenga al Comando Supremo due volte al giorno il bollettino delle novità operative e una volta al giorno quello delle notizie sul nemico. Il comando dell'armata corazzata è pregato di trasmettere copie di tali documenti anche a Delease tramite ufficio collegamento. Il comando armata corazzata è pregato inoltre di trasmettere al più presto al Comando Supremo una dislocazione grafica e un quadro di battaglia delle unità dipendenti comunicando in seguito le varianti a tali due documenti e rinnovandoli quando necessario finisce il virgolettato. Presiede una riunione cui partecipano Riccardi, Fuget, Sansonetti, Santoro, Ambroso, Magli e Gallo quindi il fiorfiore delle tre forze armate. La forza navale nemica sembra sia maggiore della presunta. Ritengo che convenga attaccare il nemico dove si trova attualmente e non attenderlo ad oriente dove avrà l'aiuto di Malta. L'aviazione tedesca non darà protezione la nostra sarà costituita da un gruppo di scarsa efficacia. Fuget conferma che stasera vi sarà l'attacco dalla Sicilia senza contare quello tedesco. Chiedo all'ammiraglio Riccardi se convenga l'impiego delle forze navali in relazione al rischio che non è tanto nella forza navale avversaria quanto in quella aerea. Se la Marina non ritiene di impegnarsi possiamo risparmiare la scorta. Riccardi conviene sul fatto che per la Marina il rischio è troppo forte. Riprendo il colloquio con Rintelen e Weininger esprime il parere che il nemico non tenterà alcuno sbarco in forze e che prevedo grosse perdite per il nemico. Ricevo Riccardi Fuget Sanzonetti argomento impiego delle nostre forze navali porgo a Riccardi il quesito virgolette è opportuno impiegare le nostre forze navali con la scorta che può dare Fuget tenendo presente che come egli ha detto al Duce è costituita di pochi elementi raccozzati raccozzati nella situazione quale saremo domani è meglio dare la preferenza alla flotta o all'aviazione quale delle due flotte renderà di più? finisce il virgolettato Fuget propone di fare una prima azione con l'aeronautica e poi deciderà allora pongo quest'altro quesito virgolette supponendo che si faccia la prima azione con l'aeronautica che si può dare dopo alla flotta finisce il virgolettato inoltre chiede a Riccardi virgolette fino a che ora si può aspettare a prendere la decisione chiuso il virgolette Riccardi risponde all'alba di domani Fuget fa presente che la scorta aerea deve essere potente l'avversario tiene sulle sue navi 30-40 aeree in volo chiede a Fuget virgolette qualora si rinunciasse l'azione aerea quanta scorta in più si può dare alla marina? finisce il virgolettato Fuget risponde 20 aerei informo che ho ordinato a Bastico di prendere tutte le predisposizioni per un eventuale attacco nemico sulla Libia informo che i tedeschi hanno chiesto lo Stige da Suda per portare benzina in Libia e che stanno mandando anche bombe con i loro mezzi chiedo se abbiamo sommergibili da trasporto Sanzonetti risponde nessuno chiedo a Sanzonetti se vi sono sommergibili di qualunque tipo disponibili Sanzonetti telefona a Supermarine è comune a che Bragadino e Corridoni sono in viaggio di ritorno dispongo si presentino uno al porto più vicino a Catania e l'altro ad Agusta dove in ogni modo direi mondo potrà fare affluire la benzina avio per il carico chiedo chiedo se in base alle notizie finora giunte si può contare su di un affievolimento della forza nemica ordino di preparare sia un piano preventivo di mobilitazione attuabile domani per quanto concerne l'invio di aerei a Tripoli dalla Sicilia e da altre località Tobruk compresa e sia un piano di trasporto di benzina a Tripoli con tutti i mezzi disponibili compresi gli S82 di Lecce Sansonetti comunica che le perdi nemiche sono gravi ed aggiunge che una portaere nemica è in fiamme un'altra a picco il Furius è già rientrato a Gibilterra avariato con quattro caccia torpediniere con la poca scorta disponibile e con la gravità della minaccia di Malta Riccardi non ritiene opportuno l'impiego delle forze navali Sansonetti concorda e fa rilevare che le imponenti forze aeree di Malta hanno dato scarso disturbo con bombardamenti evidentemente erano destinate a colpire una nostra flotta che si fosse avventurata in quella zona telefona il Duce chiedendo le novità rispondo alle 19.50 si è rilevato un movimento verso oriente di una parte del grosso della nota formazione una nave portaeree e un certo numero di incrociatori in totale 15 unità sono rimaste quindi solo una decina di unità che hanno proseguito ma in sostanza più di una metà se ne sono andate poco dopo le 21 due altre navi sono state vedute con rotta 270 cioè verso oriente allora si è deciso di non fare uscire la divisione di Kurten perché non c'era più motivo in queste condizioni sono da escludere le possibilità di sbarco nemico quelle che hanno proseguito devono fare i conti con lo sbarramento di mine e poi con i nostri mass che dato il mare buono possono lavorare bene senza contare che domani si scatenerà l'azione aerea Riccardi comunica che il nemico procede con 10 piroscafi 4 incrociatori e altre unità verso oriente dovrà fare i conti con lo sbarramento delle mine le forze nemiche che proseguono sono ridotte alla metà i piroscafi da 21 sono pure ridotti a meno della metà è da escludere ogni possibilità di sbarco occorre che l'arma aerea vada fine all'esaurimento contro queste formazioni resibili Riccardi rileva che fra 45 minuti le navi nemiche saranno sullo sbarramento ma fa presente che le nostre navi sono già attaccate dai bombardamenti dell'avversario telefono al duce gli riferisco che le unità di scorta stamane erano 38 e in questo momento sono ridotte a meno di 10 la formazione nemica alle 23 e 30 sarebbe all'altezza di Capobon e quindi fra mezz'ora passerebbe sullo sbarramento di mine i tempi sono dunque quelli previsti e cioè il nemico arriverà a sud di Pantelleria all'alba di domani ho chiesto di c'è un virgolettato ho chiesto di contrastare questo movimento la nostra forza navale è stata vista dal nemico e poco fa aveva sopra 3 ricognitori e 6 bombardieri tutta la notte sarà sottoposta ad attacchi mentre l'altra volta aveva potuto arrivare di sorpresa non so che virgolettato era questo era sempre lo stesso Riccardi e Fucet qui presenti prospettano questa situazione tutta la notte logoramento domani saranno nella zona di Malta e quindi l'incorrere nel rischio non è pagato da un rendimento corrispondente finisce qui il virgolettato telefono a Fucet informando di un piccolo sbarco nemico e di sabotaggio su una nostra linea telefonica di Taormina ricevo il generale Forrintele e il generale Weininger chiedono nuovi mezzi di trasporto rispondo che facciamo tutti i nostri sforzi ma le nostre risorse non sono inesauribili anche noi dobbiamo pensare alla nostra aeronautica e la nostra marina con il tonnellaggio che abbiamo ho dato il maggior impulso possibile ai trasporti per l'armata Rommel non abbiamo il tonnellaggio disponibile per far fronte a tutte le esigenze e quindi sembra sempre che noi stiamo in difetto e che non vogliamo dare il necessario inoltre prospetto il mio disappunto per le direttive date dal maresciallo Kestering al maresciallo Rommel circa l'eventuale ripresa delle operazioni in Egitto si tratta di questioni che devono essere decise dal comando supremo e qui arriva proprio la prova provata di come anche con Kestering le cose non vanno sempre bene nel pomeriggio riprende il colloquio con Forrintelen ripeto che così non si va avanti il comando supremo lavora al massimo delle energie se il lavoro non è organicamente impostato sbagliamo dando un piroscafo di più per un motivo e uno per un altro scompigliamo i convogli bisogna arrivare ad avere un blocco tedesco e un italiano ciascuno con la sua aviazione Van Rintelen afferma che ciò è anche dovuto al dinamismo del maresciallo Kestering che vorrebbe fare sempre di più osservo che lo stesso dinamismo può portare a passi come quello che il maresciallo fece circa le operazioni in Egitto allorché ordinò di attaccare al più presto in presenza di comandi anche italiani forse il traduttore comandante Girosi ha sbagliato nel tradurre il pensiero e nel comunicarcelo comunque mi pare che il maresciallo Kestering intenda agire e concordo avverto però che di fronte ai terzi la cosa deve essere prospettata in modo più ragionevole altrimenti i nostri dipendenti non sapranno più chi e che comanda questa frase secondo me è proprio l'elemento portante per capire tutte queste queste pagine pagine di descrizioni dettagliate di riunioni di prospettive di piani ecc la mia situazione è difficile io stesso non riunisco mai tedeschi italiani per dare degli ordini prego di non parlare di ciò al maresciallo Kestering perché si è già urtato con Fuget e mi risulta che abbia detto che piuttosto di continuare in queste condizioni chiede di rientrare non so se è una minaccia o una promessa comunque ora il maresciallo Kestering ha spostato delle unità io non sono affatto d'accordo non ho dato alcun peso allo sbarco e ho concluso che non era verosimile ho preso alcune misure ma non intendevo metterle in atto se non in caso di bisogno i fatti mi hanno dato ragione come fa una forza in quelle condizioni a pensare a uno sbarco occorreva una cisterna di nafta c'era ma era per malta e per giunta fu affondata nelle direttive del 26 giugno è detto che occorre fare massa per agire contro eventuali sbarchi quindi la cosa è logica ma la visione complessiva non è stata uniforme il comando supremo ha giudicato lo sbarco inverosimile tuttavia ha preso alcune misure ebbene che in queste situazioni il giudizio sia uno solo e venga dal comando supremo questo mio richiamo è del tutto confidenziale e a carattere generale tendente a garantire una comune disciplina in Italia in vista di avvenimenti anche più importanti telefono a Santoro presenza di due presenza di due navi da battaglia e una portaere nemiche ancora efficienti chiedo conferma della notizia che non appare attendibile Santoro risponde trattasi di due comunicati tedeschi un comunicato da una nave sola senza portaerei e un comunicato da due navi e una portaerei poche idee pure confuse telefono ad Ambrosio reparti ciclisti di fanteria telefono ad Ambrosio il capo estro maggiore dell'esercito reparti ciclisti di fanteria faccio presenti le direttive del duce in questo campo e chiede informazioni sulla possibilità di realizzarle quindi è il duce che chiede se si possono fare delle reparti ciclisti di fanteria nel 1942 stiamo parlando del deserto diciamo che Ambrosio non si occupa della parte dell'Africa settentrionale come abbiamo visto dipende dal comando supremo però il fatto che Ambrosio si occupi per esempio di Balcani così andiamo con le biciclette va bene se gli interessa soprattutto il duce ricevo Rintelen e Weininger Weininger chiede nuovi mezzi di trasporto e cioè il piroscafo che era destinato alla Pistoia ed è stato dato alla parte germanica per l'aviazione rispondo che facciamo tutti i nostri sforzi ma le nostre risorse non sono inesauribili un discorotto e in un certo punto dobbiamo fermarci aggiungo che la parte germanica ha un blocco di assegnazioni che comprende anche l'aviazione e questa non può farmi altre richieste noi dobbiamo trattare con uno solo e non con tutte le forze armate germaniche separatamente comunico che il mio compito e le mie responsabilità sono grandi e do ogni impulso possibile ai trasporti della parte germanica e in particolar modo per l'armata Rom andando avanti in questo modo non amministriamo più i trasporti affermo che bisogna portare tutte le cose su di un piano organico inoltre prospetto il mio disappunto per le direttive date al mareciallo castering al mareciallo Rom circa l'eventuale ripresa delle operazioni di Egitto interessante perché poco prima aveva detto poco prima la pagina prima la mia situazione è difficile io stesso non riunisco mai tedeschi italiani per dare degli ordini prego di non parlare di ciò al mareciallo castering perché si è già urtato confuci e mi risulta che abbia detto che piuttosto di continuare in queste condizioni chiede di rientrare invece qui esprime il suo disappunto si tratta di questioni che devono essere decise al Comando Supremo telefona Fugé notizie del convoglio che va su Malta procede a velocità ridotte e quindi non risulta ancora giunto nave da battaglia nemica colpita con due siluri necessità di procedere di accordo con i tedeschi nelle notizie da emanare con i bollettini telefona al Duce informando che l'UKV ha proposto di fare un bollettino straordinario e il mareciallo castering ha proposto un breve comunicato in cui accenna alle operazioni nostre e loro il Duce approva e dice che se lo fanno loro dobbiamo farlo anche noi è giusto orgoglio prestigio invidia non lo so fate voi riprendo il colloquio con Forrintelen mi riferisco al colloquio di stamane e ripeto che così non si va avanti Forrintelen informa che finora il Comando Supremo ha sempre ordinato di preparare l'azione ma non ha dato ordine e quindi ritiene fare presente che loro sono pronti e tutti d'accordo aggiunge che a suo parere noi non dobbiamo vedere quello che manca ora ma quello che avremo al momento fissato per l'azione dico che in questi casi bisogna fare una sintesi e sentire gli ordini del Duce lo dico a nome del Duce che è al corrente dobbiamo organizzare meglio se vogliamo che tutto vada per il bene comune informo che noi riusciamo a fare di più e il Duce ha ordinato di rallentare un poco pensate un po' è il Duce che dice fate un po' meno perché già fate troppo ricevo il genere balocco argomenti dopo lavoro militare nuovi aerei americani risorse inglese di stagno sommergibili da trasporto americani bomba magnetica anticarro piantagioni di caucciù in Europa antisommergibili americani telefono a fugee elementi per bollettino straordinario diramo le seguenti direttive per la protezione delle comunicazioni in Mostan Sarajevo quindi siamo spostati nella zona dei Balcani virgolette 22971 P AT Super Slota sarebbe il comando superiore Slovenia e Dalmazia AT Super Esercito e per conoscenza Ital Missione Zagabria e governatore Montenegro punto primo per necessità ordine superiore Super Slota deve assumere direttamente responsabilità protezione comunicazioni in Mostan Sarajevo nel tratto a sud linea di marcazione Prego impartire disposizione affinché Sesto Corpo d'Armata provveda AT più presto ad garantire tale comunicazione punto secondo Super Esercito disponga per avviamento AT Sesto Corpo d'Armata un battaglione mitraglieri e un battaglione TM tratti da territorio e invio appena possibile due battaglioni fanteria già sottratti AT e Divisione Emilia di cui è prevista ricostituzione firmato Ugo Cavallero battaglione TM credo sia truppe mobili credo un altro telegramma lo invio a Roatta che all'epoca è comandante della seconda armata appunto proprio nei territori occupati della Jugoslavia testo numero 22970 op atta eccellenza Roatta Genere Gandin mi ha esposto apprezzamenti vostra eccellenza circa attuale dislocazione di nostre forze nella seconda zona atta cavallo di Spalato condivido tali apprezzamenti e segnalo necessità che di diciottesimo corpo d'armata intensifiche costituzione bande volontarie e anticomuniste locali e segua attentamente evolversi situazioni in modo da garantire in ogni evenienza il possesso del solco Sinig Imoschi atta protezione del litorale firmato Ugo Cavallero 194 514 finisce il virgolettato mi sembra che come esposizione del 12 di agosto è una giornata molto ricca molto ricosa tutto questo in un giorno tanto di cappello a Cavallero che riesce a reggere la pressione anche di tutte queste sollecitazioni dicevo i problemi maggiori paradossalmente nascono dai tedeschi e questo è evidente e lo sarà sempre di più e questo è un problema che appunto ci offre l'anticamera un po' di quello che sarà il 43 con tutti i problemi che si avranno nel 43 sia nel primo semestre ma soprattutto nel secondo semestre con il discorso della Sicilia e di tutto quello che sappiamo successivamente al 10 luglio quindi è un problema dei problemati e tutti i problemi in rapporto con i tedeschi che diventa un po' sempre più ingombrante e lo stesso Cavallero in queste giornate non lo nasconde anzi cerca di esporlo e di secondo logica e ponderazione anche farlo presente a Kessling e questo è un elemento di novità possiamo dire rispetto ai mesi precedenti in cui vi era un grande afflato una grande complicità con il sorridente Albert e adesso i problemi i nodi arrivano al pettine e comunque non è bene per nessuno detto questo e se ne avvantaggerà come vedremo Montgomery detto questo come al solito vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao ciao